dal leggendo e benvenuti in questo nuovo video e oggi ci aspetta proprio una nuova sfida perché ho ricevuto un nuovo mondo da provare ma questa volta le cose saranno diverse perché chi è mandato questo mondo praticamente mi ha sfidato e la sfida consiste nel sopravvivere in questo mondo non sapendo che cosa ci sia all'interno deduco chiaramente che ci sia quindi un'entità che tenta o comunque vuole far fuori i giocatori che ci giocano e il nostro obiettivo sarà tentare di sopravvivere più a lungo possibile o addirittura magari ad arrivare a sconfiggere questo essere il problema è che non ho la minima idea di che cosa si tratta ora questa minaccia potrebbe essere qualsiasi cosa inizieremo ovviamente da zero da mondo appena generato e dobbiamo chiaramente crearci la base risorse e magari anche capire come difendersi avvistare questo essere capire proprio come riuscire a difendersi creare delle difese riusciremo non ne ho la minima idea ma ovviamente ci proveremo e direi che ci siamo siamo appena entrati in questo nuovo mondo e sì ho messo anche le shader e dobbiamo subito darsi da fare perché è giorno e sicuramente scommetto che durante la notte le cose potranno cambiare drasticamente in questo mondo dobbiamo giustamente darsi una mossa fortunatamente abbiamo access bonus non guardo nemmeno cosa c'è all'interno direi di prendere ogni singola cosa e direi che come prima cosa converrebbe proprio cercare un luogo per costruire la base a meno che non ci sia già qualche struttura come villaggi o magari non so una grotta favorevole alla sopravvivenza quindi attenzione diamoci subito una mossa siamo spaventi comunque in un luogo che si non ci permette di vedere molto siamo praticamente affacciati in un mare con un'isoletta che potrebbe anche tornare utile un'isoletta no per isolarsi dalla terraferme avere una visuale migliore in tutta l'area però ecco potrebbe rendere difficile la fuga nel caso ci fosse qualcosa nel mare comunque direi che possiamo anche contro il resto perché siamo in una taiga direi che conviene proprio controllare questa taiga così anche prenderemo un po di risorse viaggia un po di legno ma meglio prendere altro qua ci sarebbe anche già del cibo direi di accumularlo perché qui ci potrebbero esserci animali chiaramente nella taiga però ecco in che non ne vediamo meglio prenderci le bacche che sicuramente ci permettono di resistere il più possibile altra cosa da aggiungere vi ricordo ovviamente il like per questo video potrebbe essere anche un video lungo quindi mettetevi comodi perché vi sa che avremo molto da fare a meno che ecco non verremo sconfitti subito cosa che vorrei chiaramente evitare vorrei tentare di sopravvivere il più possibile ovviamente dato che si tratta proprio di una sfida questa ok addentriamoci qui nella taiga diamo un occhiato in giro e cerchiamo di capire dove anche potremmo costruire una casa nel caso non dovessimo trovare nulla qua mi sembra di aver visto anche una grotta si decisamente quindi qui potremmo anche trovare il materiale facendo ovviamente attenzione perché nel caso ci fosse qualche essere strano potrebbe anche vivere trovarsi nelle grotte e non è molto divertente questo facciamoci subito un po di attrezzatura di base mi interesserebbe sì facciamoci una spada direi anche un piccone già che ci siamo così poi il resto vedremo di di procurarci la strada facendo ok speriamoci quindi la stone e diciamo che come inizio potrebbe essere abbastanza standard vediamo qui nella grotta anche se facciamo attenzione perché sapete non sappiamo che cosa c'è in questo mondo al momento dove lo sappiamo voi non so se avete magari capito qualcosa dall'anteprima non ne ho la minima idea ma ci sarebbe anche del carbone che direi di prendere immediatamente dato che potrebbe servirci carne qua gratis ma non l'ho raccolta io oddio non mi sono reso conto di questa cosa non ho ben capito perché c'è della carne lì a caso ma va bene facciamoci un piccone e ovviamente anche una spada e direi che come cose di base ecco ci siamo prendiamoci il carbone altra cobblestone e poi oddio potremmo anche tenerci questa grotta come casa la illumineremo per bene nasconderemo l'ingresso perché qua si tratta di sopravvivere almeno nella prima parte se poi riusciamo a sopravvivere avere quindi una base sicura fare avvistamenti anche capire un po che di che essere si tratta qua allora poi potremo passare anche alla fase successiva perché magari anche non fare troppi tagli così se vedete qualcosa potrete chiaramente aiutarmi nei commenti però direi che questa cosa qua questa vena di carbone potrà aiutare molto ok direi di uscire però adesso anche perché il tempo passa e ormai saremo quasi arrivati a metà giornata ancora nessuna cosa strana un perdere questo perché non so se se sia una buona idea ma un cannucchiale no direi di farlo quindi questo potrebbe tornarci utile non penso ci siano altre utilità quindi non prenderemo nemmeno tutto a questo punto andiamo avanti facciamoci anche giusto un ascia così ci prenderemo il legno perché dobbiamo puntare anche a costruirci una casetta non dimentichiamo questa cosa importante e vediamo di dare un occhiato in giro continuiamo le ricerche qui l'obiettivo rimane comunque aspettate è villaggio e villaggio obiettivo rimane comunque trovare un luogo sicuro per la notte e direi che il villaggio potrebbe essere effettivamente la soluzione a questo problema che dite sì c'è un villaggio neanche messo a corte siamo avvicinati però con gli alberi è difficile vedere quindi direi molto bene ci sono un bel po di case quindi chiaramente le potremmo utilizzare per proteggersi anche durante la notte magari anche dormire qui c'è una mappa vuota però attenzione perché ho appena notato che mi sa che sta piovendo si sta decisamente piovendo ora ok non me ne ero nemmeno reso conto ok qua c'è un cartografo ma nulla di particolare attenzione perché effettivamente mi sa che no non sta piovendo cioè non sento rumore a pioggia non vedo nemmeno la pioggia però c'è una strana nebbia ok potrebbe essere la versione recente di minecraft soprattutto abbinata alla shader anche perché non me ne sono proprio reso conto di questo cambiamento di fatto che comunque qui c'è una grotta e potremmo magari prenderci delle risorse qui ok direi di fare molta attenzione da questo momento in poi perché le cose qui stanno già decisamente cambiando e dobbiamo prepararci per la notte soprattutto no devo creare un'area sicura anche un punto di avvistamento non sarebbe affatto male ok iniziamo a tagliare alcuni alberi qui in questa zona almeno avremo una visuale migliore e avremo anche del legno per magari potenziare una di queste case avere un punto di avvistamento più interessante ovviamente facendo la dovuta attenzione ok devo ammettere che con questa atmosfera le cose sono un po diverse tutto decisamente più strano e mi sto guardando spesso attorno perché non so ma mi sento un po osservato qui speriamo che sia semplicemente una sensazione questa e che non ci sia già qualcuno qui ad osservarci appunto speriamo di no perché non mi sento non mi sento assolutamente pronto ora non abbiamo praticamente nulla nemmeno un po di armatura chissà che conviene andare nelle grotte cercare il ferro prima che faccia buio e di notte potrebbero arrivare mostri chissà e altro ok cerchiamo una grotta obiettivo cercare una grotta poi metteremo a cucinare anche il cibo che abbiamo a disposizione sarebbero anche altre casette da controllare facciamo anche per ora no mi piaci più quella questa qua a casa che è anche più grande non abbia più spazio esattamente qui sopra questa cesta utilizzeremo noi lasciamo qui un po di materiale e dobbiamo fare anche una fornace insomma dobbiamo fare un po di cose però come prima cosa dobbiamo assolutamente trovare delle risorse e direi che la cosa saggia e corretta sia proprio andare qua sotto no cerchiamo quindi un punto per scendere direi che qua potrebbe tranquillamente andare bene basterebbe andare di qua dove c'è l'acqua poi risaliremo magari da lì è che potrebbe andare bene prepariamoci già magari un percorso per salire così possiamo stare tranquilli no in caso di necessità e adesso un rumore strano tra l'altro e ho sentito un rumore strano di un secondo però perché qua insomma facciamo così comunque siamo sentito in lontananza un rumore strano oh mio dio che ca... oh mio dio c'era qualcuno da... cavolo cos'era Irobrane qualcosa del genere e ci stavo osservando dio aspettate ok andiamo di qua eh dove siamo ora non è forse cos'è stato? senso di rumori strani comunque sento dei rumori strani almeno sentivo dei rumori strani comunque quello è sembrava tipo Irobrane ok di solito allora se Irobrane effettivamente non dovrebbe essere per forza subito ultra aggressivo potrebbe concedersi un po' di tranquillità no? effettivamente lui sarebbe del ferro qua da prendere però attenzione perché quel rumore strano ce l'ha fatto lui oppure è stato qualcos'altro vediamoci il ferro sperando che ce ne sia più di quel singolo blocco però attenzione occhi aperti qua direi anche di tentare di illuminare il più possibile qua ok eccolo qui no è solamente un blocco però è anche caduto maledizione però qua in compenso c'è anche una grotta ah ma serve per scendere ok abbiamo illuminato anche perché non so quanto manchi alla notte e di conseguenza dovremmo iniziare anche un po' a illuminare ok qua non c'è un bel niente le cose iniziano ad essere un pochino complicate eh io direi che per ora l'importante è dormire immediatamente appena passa la notte direi che come requisito ecco possiamo mantenere questo tanto vi dobbiamo controllare di qua anche perché qui purtroppo materiale non ne stiamo trovando potremmo tentare di scavare verso il basso no? di solito se c'è un canyon di questo tipo attraversi anche qualche altra grotta no? almeno credo proviamo a scavare un attimo? quello che convenga dai proviamo a scavare in questa direzione che sembra già esserci una piccola grotta magari proviamo un collegamento ad un'altra grotta acqua no scheletro però pensavo di aver trovato l'acqua c'è uno scheletro uh c'erano dei passi però anche c'erano dei passi allora che ci sono dei mostri potrebbe essere anche un buon segno il problema è che è un po' una rottura quello scheletro eh dobbiamo fare una scaletta per scendere e affrontare quello scheletro in sostanza rigeneriamo prima di tutto e poi se da solo dovremo farcela grotta strana un po' scomoda per scendere però vabbè ormai ci siamo dai proviamo ad affrontarlo forza forza ok ok e direi primo mostro fatto fuori anche illuminiamo illuminiamo immediatamente perché è tutto decisamente molto buio qua adesso iniziamo a prendersi anche il ferro così iniziamo a farci anche un minimo di armatura il rame qua direi di lasciarlo stare abbiamo sicuramente il ferro che è quello che ci serve poi però mi sa che dobbiamo assolutamente uscire da qui temo che la notte sia ormai arrivata e non sarà facile sopravvivere mi sa ok ferro preso non vedo altre risorse facciamoci però qualche altra torcia in più direi che è di fondamentale importanza ok ci facciamo anche già un altro piccone tanto a scatoletta ci abbiamo tutto via ok piccone facciamolo immediatamente facciamolo anche due direi che questo passo li consumiamo molto facilmente e ok continuiamo a scavare illuminiamo per bene ovviamente cosa che dovremmo fare anche fuori finché non abbiamo una base molto protettiva lì per là sotto penso sia la cosa più corretta non sembra aver visto del minerale potrebbe anche scoppiare non mi interessa ok perfetto continuiamo di qua che dite spero di sì poi mi sa che si tocca per forza andare fuori da qui però però volendo qua come vedete si può scendere parecchio non so se arriviamo anche la deep slate però c'è dell'oro che potrebbe anche tornare utile la grotta finisce però tutto sommato molto bene l'oro non possiamo nemmeno prendere perché serve il piccone in ferro quindi usciamo usciamo da qui ok è stato questo usciamo da qui togliamo la superficie iniziamo a prepararci uh ce l'ho dei passi? stavo tentando di andare di sopra non ho sentito dei passi attenzione no comunque mi sa che dobbiamo proprio sopravvivere a quella strana forma di iron mi sa dobbiamo ancora capire esattamente chi è perché è così cioè se iron è perché in quelle condizioni strane dobbiamo capire un po' di cose quanto vi diamo di uscire ok uh cado al buio è buio però eh mi sa che stiamo siamo arrivati al tramonto eh mi sa proprio di sì ok ci sono dei blocchi preferirei risparmiare la la cobblestone più che altro perché potrebbe servirsi per potenziare una una casa no per difenderci però ora come ora usiamo per uscire da qui eh temo che manchi pochissimo la notte allora io direi di illuminare l'area per quanto possa essere possibile ovviamente illuminarla perché è molto grande ci sono tantissimi alberi però in questo modo in teoria riduciamo lo spawn dei mostri perché sapete cioè appare dopo la fine a causa dei mostri sarebbe un po' imbarazzante no ecco almeno lo spawn dei mostri verrà ridotto e su questo non c'è alcun dubbio poi però attenzione se decidiamo di rimanere qui potremmo anche pensare a mettere delle mura delle mura protettive ho sentito un rumore strano eh che non sarebbe affatto male eh tanto qua c'è anche un'area abbastanza libera che dato che abbiamo tagliato gli altri potremmo anche costruire una torre qualcosa per fare avvistamenti no però ok direi che così più o meno è già qualcosa ok i villager si sono radunati tutti lì al centro sapete cosa significa che la notte è arrivata mi sa è tutto decisamente più scuro rispetto a prima e se mi sa che notte eh mi sa che notte è sul serio allora entriamo un attimo qua facciamo una cosa sensata magari eh sì stanno entrando nelle case perché è notte per una scatoletta che abbiamo lasciato in giro mettiamola qua ci serve anche una fornace mettiamola qua e mettiamo a fondere il ferro che vi ho trovato che è 14 non è moltissimo però complessivamente è meglio di niente facciamo così rigeneriamo anche e a questo punto dobbiamo iniziare a pensare a come sopravvivere qua perché non sarà per nulla facile proprio per niente iniziamo un po' a barricare un minimo e so che non è molto quello che sto facendo però almeno alcuni mostri semplici non si avvicineranno così facilmente no? dopo vabbè ragni sapete tutto diverso però mi sa che è notte eh credo che sia notte sì sì ecco il cielo è anche scuro il cielo è scuro mi sa che il tramonto è arrivato restiamo in quest'area credo che sia l'area più sicura vorrei semplicemente chiudere però qui ok non abbiamo più cobblestone vediamo momentaneamente con il legno un gatto qua ecco perché non posso metterlo qua ok posso giusto per vedere un pochino meglio no? ok zombie ma sento tutti i rumori strani in lontananza ok non capisco sentivo tutti i rumori strani forse era lo zombie dobbiamo fare una cosa però come cavolo ho messo questo virger non ne ho idea più che sia il caso di fare una torre di avvistamento o qualcosa del genere quindi facciamoci una scatoletta questi virger fanno un po' di rumore fastidioso però non ci possiamo fare molto e ci facciamo comunque delle scale non so quante però 9 potrebbero bastare sì direi di sì siamo qua sopra e direi non male da qui si può vedere abbastanza bene la zona anche se per ora tutto sembra essere tranquillo non stiamo sentendo sì come strano abbiamo sentito in realtà però a parte quel rumore avvistamenti non abbiamo fatti altri quindi tutto dovrebbe essere abbastanza tranquillo credo ok qua è arrivato uno zombie guarda là c'è un albero tagliato leggermente che cavolo c'è un albero che è stato tagliato un po' strano oh ancora no 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 ma aspettate un attimo c'è c'è qualcosa là dietro oddio c'è qualcosa là dietro proprio nell'albero tagliato no 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 non riesco a capire cosa ma questa cosa non mi piace questo video deve andarsene subito villager devi andartene che cavolo no ma c'è qualcosa là e non so cosa sia no no proprio dal minimo vedete cosa sia non abbiamo nemmeno un cannucchiale che volevo fare perché servirebbe il materiale giusto per per farlo non so non lo so eh non lo so oh oddio è sparito non l'ho ben capito sembra essere sparito oddio qua i zombie però stanno facendo un disastro ok facciamo fuori i zombie cavolo quanti aia attenzione ma questi zombie dove cavolo sono arrivati così tanti poi dobbiamo rigenerare assolutamente rigenerare assolutamente ok cos'è stato oh altri zombie lo santo non zombie ok i morti stanno comportando in modo decisamente strano e questa cosa non è che mi piace molto è momento di fare l'armatura per quanto possiamo farne perché in realtà possiamo fare qualche pezzettino vorrei fare la spada e il piccone anche quindi l'unica cosa che possiamo fare è semplicemente questa così direi che va bene per ora ok armatura e piccone non è molto però però va bene così questi zombie fanno il giro ovviamente oddio quanti ma quanti sono i zombie poi siamo di fuori eh adesso torniamo alla torre ovviamente ok il villager mi sa ok dovremmo chiudere comunque questa zona e anche qui oddio sento il rumore stranissimo fammi entrare maledetto no no c'è un rumore strano eh che che c'è qualcosa di molto brutto qui eh c'è qualcosa di molto brutto da queste parti quello che convenga quasi quasi dormire se possiamo dormire eh no perché stanno arrivando altri mostri oddio ok allora facciamo fuori lo zombie e poi direi che boh tentiamo di dormire ok possiamo dormire sì sì ok ok a giorno a giorno c'è qualche creeper in giro però direi che siamo abbastanza siamo vivi no bello il villager che va addosso al creeper però siamo vivi eh abbiamo superato questa notte sento ogni tanto i rumori strani eh però complessivamente mi sa che abbiamo fatto la scelta giusta dormire così almeno eh ecco abbiamo abbiamo anche il punto di spawn anche se non so se sia possibile risponare se siamo presi da qualcosa di brutto però almeno il primo giorno se n'è andato e sembra essere stato anche un giorno decisamente lungo eh non so se il tempo scorre normalmente qui però ok direi che non non conviene solamente perdere tempo ora e converrebbe assolutamente prepararsi per le notti successive creando un'area più protetta di questa soprattutto anche dai banali zombie e comunque avete visto cosa cavolo c'era non si è riuscito a capire ma c'era qualcosa proprio dietro a questi albri tagliati oh mio dio guardate ce ne sono altri tagliati di dietro quindi attenzione perché sicuramente c'è una strana forma di irobrei ma credo che il problema quello serio sia un altro concludiamo qua questo episodio attenzione nel prossimo proseguiremo ovviamente da qui e temo che più si va avanti più le cose peggiorino vediamo quindi nel prossimo episodio a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti